vedete per cosa sono arrivati sono arrivati con Giorvano piaccio piaccio ti vieni piaccio 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 porca madonna vatamene qua riposta vatamene qua come vatamene qua oddio stai a prendere piano in parlare guardo fermo l'ucano il passaggio ma cosa tu vado a andare vado a andare per sapere lo sangue stai a prendere guardo a 6 volte di tutto il ribotto cosa successe vado a prendere dubbi di sottopi stai a prendere l'uomo che cosa è passata alle spalle si a parte che che cosa è andata con noi ma se stai a prendere la casa in costruzione vabbri stai facendo in un momento si 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 attenzione uno porco si è imbracchita in mezzo alla macchina quello che porta al piccolo stai attenti voi porto un piccolo non è nascito il porco porto un'altra cinghiava vado a dire qua su alzatevi uno qua su andò ma non c'è uno qua su fianco a Berardi la posta a fianco di Antonio sopra di Antonio alzatevi uno qua su mettetevi uno a Berardi un'altra posta che ha sparato da sotto da sopra qui sta a posta blu cross la partita a due con la partita tu qua ci siamo eeeh non bisogna per essere riposta un po' che la fai mo? si guarda la seguita di Rubico lo porto un cinghiale e lo sovi stia lo sovi stia lo sovi stia alto a metà sotto la strada scavate e armbicchite a mezzo la macchina vedi che la metterò bene tra voi e dove sto io armbicchite da sopra aperto montagna da voi capito? armbicchite l'andro c'è vabbè sta messa a fermo Rubico c'è lì vabbè 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 che sa? vabbè 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 si non 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 posso fermare lo posso essere utile c'è sguardo vabbè io andro c'è il c**o c**o e la c**o e la c**o c**o ma io lo metto c'è 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 guarda, ora stai a farmi ha fatto il carro, devi dire l'ha perso buona buona caccionata per la pella, per sta estra, però capite oggi è un po' basso oggi è un po' basso sta rimesso non è d'arriva sono stato la balla l'aria di costruzione l'aria di costruzione abbiamo visto la fabrizia con il german abbiamo visto la fabrizia da подlaire grazie a tutti, amici non siete che? Ehi, fate cingarcare la Jack Mi ha messo la carta di cignale Ecco dove li siamo trovati E' morto, è vero E' la scrofa quella che ha fatto male alla cane Non penso che era vero Sotto buce e poi se lo chiede E' morto Quattro cingarci E' aperta la pelle tra quattro parti aperte Non è che dici Va beh quella che veniva E' la scrofa perchè quando la faccio Si arriva a me la ricamo Guarda Oh, l'uqana è sembrata L'uqana sta sembrata con una zomba Fabrizio sta sopra, o si? Sotto il Germano Guarda qui Stacendo per il Germano, picciotta Si, verso la casa in costruzione, dove? No, più qua, si Più verso dove, dalla macchina d'alte 100m a linza Lo sotto sta l'uqana, sotto la strada Toca la tagliata, dai Si fa brinca a me Vabbè, guarda qui, se tu hai la scuola, Jacks No mamma, non mi mando un momento Sotto il Germano Vedo, ci piace Sotto il Germano 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 Quello che stiamo facendo Sotto la casa in costruzione, ci ho messo una cosa Ma dove stiamo qui? Stiamo qui Stiamo qui Stiamo qui Stiamo qui Sotto il Germano Sotto il Germano Si, c'è la carta rail E adesso c'è la lupicola La rambata E adesso la casa in costruzione E dai 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 Sotto la strada Sotto la prate Sotto il Germano Il Germano è ricco Fai la gente, allora dai Fai la gente Mi stengo avvicinando Sono arrivato a 100m il Germano Mettiamo le sabre, capite? Com'è Mettiamo le sabre, capite? Poi vengono le sabre, piano piano Pianco 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 Marcin Pianco e Fabrizio Pianco Pianco Marcin Pianco e Fabrizio da qua Pianco 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 Verso la montagna Cacchettino sopra la strada ci vuoi Pianco 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 Cacchettino sopra la strada Non mi rendo conto che sta simbato, capite? Sta proprio a baciare la strada Guardi che ha chi saunity Cacchettino sopra la sabre Quanto si� asta Poc'anni 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 Nemmmo renda nessuna condensate unseren Party comenel Kim eres 呢 se vuoi un passato il giusto si vuoi un passato? si vuoi un passato, in un'altra' si vuoi un passato, ragazzi si vuoi un passato? si vuoi un passato? e sicuro che arrivai a vicino i siamo stati così non mi guarda, non mi guarda, ne ho provo o forse una mia, non mi guarda ha sicuro che sovrappato ma cosa anche per la strada? e sicuro che ha fatto? se vuoi un passato? Sarebbe proprio passi in ghiere La gente da iambaccio la strada proprio Lucano e stai all'azotte Stai arrivando a piaccio Eeeh Fabrizio Ma Che c***o non mi ricco Eeeh ma questa chiamata Stai andando io Stai spettando che io ho avuto trenare Che cosa faccio io non ho capito Eeeh la c***o ma Eeeh la c***o la ruta da bordo E' la scrappando a c***o la c***o Agora possono acc*** mo Cupice C***o Tra la p** najle a la strada stai Non è già ci sta stai Vai lì inseris C***o mi Sta la p**laia fermetelo in giro, fermetelo in giro e mi abbiate a sentire un cane vabbè stiamo in giro, stiamo in giro l'ora che puoi stai due a parte in giro, fermi, fermi il cane, avrai aiuto a niente ricca sul chiappa d'orso e metto la strada non c'è mai, il chiappa d'orso metto la strada che roba era, la panna grossa, che roba era, roba una cinghialetta e 20 kg ah allora, non mi manca la panna di a niente dai una cinghialetta, una cinghialetta e 15 kg vabbè dai, da quello che ha sbito là, la sbito tra là io però mi sto questo eh allora, innanzitutto c'è la scrova, poi mi ha arrivato 4 borghette e faccio 5-6 kg ma che ha pagato il cane ci ha, ci ha, ci ha, ci ha, ci ha, ci ha, ci ha ci ha, ci ha, ci ha, ci ha, ci ha oh roba oh riccardo, provo a fare la remessa c***o 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 che è venuto per sclippazze c***o che è nascondato a mecina aperta c***o secondo me è 6 e mezzo cos'è lì a fare, da lontano, appunto, dovranno sentire i rumori in questo momento e invece non mi ha mai l'uqana p***o no, p***o, dai e io sono quasi sovegliate c***o c***o la macchina sotto a.to chi muerà me non vediamo che si gabbè a me ne è mi ha signora d'uomo di fronte c***o la macchina sotto a.to chi muerà me non vediamo che si gabbè a me ne è mi ha signora d'uomo di fronte c***o c***o, c***o, se stai visto di sotto f***o quando.. c***o Massimo questo con il momento è stat'ato da muo st'ato quando la cinghiale ha calito manda la roba? 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 8 9 10 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 140 15 18 14 15 15 135 14 15 16 16 14 15 15 15 15 15 15 15 su Lucano ecco vado a fermare Lucano ora sono l'inghio, sono chiamato lì, metti una strada 5 a 6, non riesci adesso, adesso 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 dove Orsi? dove Orsi? la Purcellai? va bene, armi per un mattino, Rubinetti non è successo, non è successo non è successo non è successo la destra può, attraverso il senestrato, lì chiamiamo adesso stai qui, alla senestra capito? Maurizio, Rubinetti niente, secondo me non dà mattino, che si muovele chi ne si muovele, chi ne si muovele Rubinetti pure giocchetti, un bucetto un bucetto piccolino, che roba di scraffa dai c'è? c'è un uccello, ma per caso se non dà mattino la macchina, ma c'è lì, se me ne sottolineate le controllate pure la controllate il bello si usa la maggiorita, guarda, da spitto non è fammelo vedere la buona, da spitto un po' pure, dai, qua per una cazzata non è che questo ma la madre ci sta, dove sta Daniele Daniele, ancora retro il sangue qui? per che retro il ferretto in giocchia il carto? stai venendo, ma mi sta fermato un momento con quello stavo arrivando, ho messo il giac, ho capito per il giac, ho fatto un po' un momento, andatemi tempo non si è fermato con quello buona gommina 10, qua c'è un carto a unete qua io dove sta la macchina di Alde qua c'è come sei il paolo? non è che tu, ritieni che stai parlo? stai a me, ma se mi è andato a fare la parte di qua buh, non poto il bagno a fermo ma devo un po' più, ho capito ma ritieni, hai visto, che stai bene no? che stai bene, stai bene se li fai un giro, chiedi stai parlando di camere, no? no Alde, c'è roba aeree, c'è roba grossa roba grossa si, tu guarda che mi piace l'altro ha fatto la seguita, non ha passato prima Alde, quant'è grosse? quanta in su? ma Mario, ci sta dove esce le tre cinghiale, ci sta cacchettino e ora ci esce le chine Pierpaolo i carri, la passità di quella ci vuole cacchettino lì che ora arrivo due chine Pierpaolo, capito? i cani tuoi, hanno preso la sfilata di quei tre cinghioli che ho visto io e lì c'è roba è? lì tre grosse, lì tre bestie grosse non capite, quello che ha fatto da tornare tu là faccio la prima dove è passata che ora arrivo due chine stai, stai